Allora Claudia, innanzitutto grazie per essere qui con noi oggi. Io non vedo l'ora di tuffarmi in questa puntata insieme perché grazie alla tua pluriannale esperienza ci aiuterai finalmente a fare un po' di chiarezza riguardo ad un aspetto molto temuto dell'imprenditoria dalle donne e cioè il business plan. Tutti ne parlano, nessuno sa di preciso che cosa sia ma soprattutto nessuno riesce poi se dovessimo davvero individuare dei punti chiave essenziali che non possono mancare al nostro business plan difficilmente riescono ad essere espressi quindi o diventa una cosa complicatissima per cui uno dice vabbè chi se ne frega io comincio anche senza business plan e magari faccio delle cose che sono previste nel business plan senza nemmeno saperlo oppure mi impallo e poi mi blocco pensando che non sono all'altezza di gestire e avviare un'impresa. Quindi aiutaci a fare un po' di chiarezza partendo da quali sono le componenti base di un business plan e come lo sviluppiamo? Allora intanto vediamo di chiarire che il business plan non è questa cosa drammatica ma fa parte della nostra vita di tutti i giorni quando ci imbarchiamo anche in un progetto che sia anche solo organizzare una vacanza o un sogno che vogliamo acquisire magari prendere una nuova casa per le vacanze o un qualsiasi progetto di medio o lungo termine necessariamente dobbiamo stabilire quali sono i passi che ci portano alla realizzazione di questo progetto. Il business plan non è altro che questo anche perché il business plan differentemente dal bilancio dove i numeri sono chiari e fattivi nel business plan noi andiamo a fare delle previsioni, previsioni che poi andremo e vedremo una delle regole fondamentali, la revisione regolare di queste previsioni ci permetteranno di essere sempre aggiornati sullo stato dei nostri passi che stiamo facendo per la realizzazione del nostro progetto. Quindi da questo punto di vista ci sono degli aspetti fondamentali che devono essere seguiti nel business plan e che riguardano il chiarire il punto di partenza. Il punto di partenza è chiaramente quello che è la descrizione di quello che si va a fare, di quello che sono gli scopi dell'attività di impresa che si va a fare e questo è fondamentale perché se non c'è un preambolo a quello che è il sommario esecutivo delle nostre attività diventa difficile per chiunque guardi questo business plan e magari si è interessato a finanziarci a comprendere qual è il nostro impegno e dove è focalizzato il nostro impegno. Soprattutto poi non possiamo pensare di cominciare a prenderci o assumere una responsabilità di impresa se non abbiamo una squadra sulla quale basarci perché insomma il one man show non funziona se non a teatro ma nell'impresa serve avere una condivisione di compiti che portano a un certo tipo di risultato ed è per questo che anche descrivere e provare di avere la capacità di distribuire le responsabilità di impresa tra vari attori è la maggiore garanzia per chi ci vuole finanziare che evidentemente una funzione verrà svolta da persone capaci e queste persone saranno in gradi di affrontare le varie fasi progettuali nel tempo dando continuità al nostro progetto. Però non possiamo calare questa descrizione del nostro business, il nostro piano di business se non abbiamo anche chiaro quello che è il mercato di riferimento e quindi il nostro target. Tante volte ci capita di affrontare nei partecipanti ai nostri corsi idee fantastiche però poi dopo anche dal punto di vista del marketing se non sia chiaro qual è il target ovvero la clientela potenziale interessata alla nostra impresa al nostro prodotto finiamo per perdere delle grandi energie andando a dare dei messaggi assolutamente generali qualunquistici quindi fin dall'inizio non solo dobbiamo cogliere un'esigenza per la quale facciamo impresa per la quale vogliamo dare una soluzione sia esso un servizio sia esso un prodotto ma dobbiamo anche capire a chi si rivolge questo servizio questo prodotto in maniera molto specifica perché questo guiderà tutte le nostre attività anche di marketing strategico che andremo a fare poi seguentemente nel momento in cui entraremo nella vera e propria produzione. Ti faccio una domanda Claudia scusami se ti interrompo ma inizio dal è un po' la classica domanda nasce prima l'uovo o la gallina devo prima verificare che ci sia un mercato adeguato prima di proporre la mia soluzione e se sì quanto grande dovrebbe essere questo mercato per pensare che la mia soluzione possa eventualmente essere anche finanziata o che io possa comunque creare anche senza finanziamenti un business che si possa sostenere oppure parto da uno studio di mercato prima ancora di avere un'eventuale idea qual è l'approccio migliore se ce n'è uno migliore? Allora l'approccio migliore allora una volta che mi sono chiarita che cosa sono in grado di proporre in termini di servizio produrre in termini di prodotto e capito appunto il target a mi voglio rivolgere devo evidentemente andare ad affrontare quali sono i competitor e dall'analisi dei competitor capire quanto è grande la fetta di mercato che potrò andare a costruirmi nel tempo per arrivare al famoso break even cioè al bilanciamento tra quello che sono i miei costi di produzione e quando inizierò a guadagnare dalle vendite di questa produzione. Quindi sicuramente un'analisi fattiva del mercato sul quale andiamo a proporre servizio prodotti diventa fondamentale e imprescindibile soprattutto perché i competitor ci danno la misura delle difficoltà affrontate in proposizione di servizio prodotti simili e dov'è che possiamo differenziarci e come per arrivare al nostro target di clientele quindi finalmente poi a fare quelle famose stime che compolgono un business plan che ci permetteranno di costruire il nostro lavoro nel tempo. Può succedere che non ci siano competitor perché la mia idea è del tutto originale e in questo caso procedere o non procedere? Diciamo che nella nostra esperienza sono molto rari i casi dove si riesce a cogliere al giorno d'oggi un'esigenza, un bisogno che fino adesso non è stato in qualche maniera perlomeno percepito, affrontato o assolto. Quindi sicuramente in questi casi la cosa migliore ancora una volta è perimetrare quello che è l'obiettivo, la clientela potenziale perché il rischio è di se la platea è così grande perché non è stata ancora pensata da nessuno questa idea il rischio è anche che l'effettivo bisogno non ci sia perché se nessuno fino adesso ci ha pensato a diciamo così a rispondere alla chiamata del bisogno forse perché questo bisogno non è sentito, trova degli altri canali di soluzione o di accoglienza. Quindi abbiamo fatto in qualche modo un passo indietro parlando di analisi di mercato, quali sono le altre tappe di un'analisi di mercato oltre all'analisi dei concorrenti? Allora sicuramente l'analisi di mercato deve essere affrontata nel senso di verificare i canali di distribuzione con i quali io voglio muovermi su quel mercato, nel senso che a seconda che io scelga una modalità esclusivamente digitale ho una modalità che prevede una rete di distribuzione che possono essere o dei venditori o comunque una rete di consegne vere e proprie a seconda del tipo di servizio. Oppure trovare delle alleanze e quindi dei canali sui quali posso andare a distribuire il mio prodotto. Faccio un pratico esempio, c'è un canale di vendita americano che è molto conosciuto che si occupa di vendite via canale televisivo e in questo canale televisivo vediamo avvicendarsi sia marche molto note, soprattutto al mondo femminile, sia marche un po' meno note dell'abbigliamento che trovano in quel canale di distribuzione una filiera efficiente per aumentare a dismisura il numero di prodotti che possono vendere in un solo luogo, quello del canale televisivo. Quindi sicuramente se io ho un prodotto che anche può essere di nicchio, anche può essere non un brand molto conosciuto proprio perché è una startup, un'attività nuova, ecco che il canale televisivo che lavora in questa maniera così capillare può essere per me un acceleratore della penetrazione del mio prodotto o di quello che voglio andare evidentemente a vendere e a proporre. Quindi sicuramente anche il canale di distribuzione è un altro elemento che devo tenere in conto quando analizzo il mercato di riferimento. Quindi concorrenza, canali di distribuzione, a patto che a monte ci sia comunque una direzione che io intendo seguire perché se non ho un'idea chiaramente difficile che possa creare qualcosa. A questo punto è finito il mio business plan o c'è qualcos'altro che ci devo mettere dentro? No, sicuramente a questo punto quello che ci devo mettere dentro è il prezzo del prodotto. Quindi fatte tutte queste analisi, devo arrivare a capire qual è il prezzo più efficiente per il mio prodotto, per proporre il mio prodotto. Più c'è concorrenza, più diciamo mi è facile posizionarmi in termini di pricing e poi ovviamente devo andare a fare il mio business plan tenendo conto di fare una proiezione almeno a tre o cinque anni per capire in quanto tempo io riesco effettivamente a coprire i costi di avvio della mia attività che può prevedere dei costi fissi, se è una produzione legata a un bene oppure dei costi che posso distribuire nel tempo se si tratta di un'attività invece digitale o di distribuzione. Uno dei dubbi più grandi che un po' attanaglia, adesso parlo delle donne imprenditrici ma qualunque neo imprenditore che comincia il suo percorso è il fatto di non avere un team. Tu ne hai parlato all'inizio, hai sottolineato che il one man show non funziona se non a teatro e mi è piaciuto molto perché spesso si sottovaluta l'importanza di un'attività di delega e di un'attività di condivisione con un team e però team significa anche spese, significa tutta una serie di elementi di complessità che inevitabilmente entrano in scena e per cui spesso quando un imprenditore inizia non ci sentiamo pronti. C'è qualche suggerimento che ci dai per ovviare un po' questa paura o per affrontarla senza bruciacchiarsi in qualche modo? Allora diciamo che team e soldi sono i due pilastri sui quali si basa la riuscita di un'attività di impresa perché il bilancio ce lo può fare il commercialista, il marketing ce lo può fare lo specialista di marketing, i social possiamo imparare a farli o possiamo destreggiarci in quello che già riusciamo a fare targettandolo come si diceva in maniera specifica, ma se non abbiamo un team ben organizzato anche digitalmente ovviamente in termini di funzioni e non abbiamo le fonti di finanziamento la nostra impresa non va da nessuna parte. Quindi sicuramente il fatto di essere capaci di ascoltare e di mettere in pratica i consigli che arrivano da un team che deve coprire le funzioni principali legate alla nostra attività di impresa è fondamentale. Quindi prima di tutto, e lo vedo anche in quelle che sono le nostre attività della fondazione, la digitalizzazione è quello che aiuta ad avere imprese leggere, ad avere imprese che si salvaguardano da un punto di vista anche di cyber security, che riescono ad adeguarsi alle varie normative, la GTPR, la legge 231, la riforma del terzo settore, tutto quello che ne viene, che gira intorno all'attività di impresa, certamente la digitalizzazione aiuta ad avere delle imprese dove il numero di risorse può lavorare in flessibilità e con dei mezzi di continua verifica. Cioè il fatto di poter avere sempre, è come se io dovessi fare una audit, una verifica contabile continua, ecco col digitale io posso in real time sapere dove sto andando, cosa sto facendo, quanto sto spendendo e quindi quanto posso guadagnare. Quindi sicuramente un impianto digitale forte a livello di impresa con un management ben distribuito nei compiti e quello che serve per iniziare. Ciò non vuol dire che uno deve essere un tecnico nucleare, ci vogliono sia gli umanisti che i tecnici, però entrambi sono quelli che presiedono al controllo della solidità e danno a chi finanzia l'impresa, sia esso una banca, sia esso un business angel, sia esso una piattaforma di crowdfunding, l'idea che c'è una organizzazione capillare e solida. L'altro aspetto è quello che tutto questo non si tiene in piede senza i soldini, quindi se il sogno della start up che nasce nel garage, quattro amici e parenti diciamo così a supporto è favolisticamente meravigliosa, la realtà è che difficilmente le banche danno i soldi alle start up e quindi bisogna cercare di essere estremamente convincenti da un punto di vista del business plan e del team management per poter proporre qualcosa di convincente e che raggiunga quella solidità finanziaria che nel tempo permette di avere un successo. Vedi tutti i vari casi delle start up al femminile e delle agevolazioni anche fiscali che vengano date con la nuova legge sulle start up. A proposito di team management, dovrei pagare prima me stessa, prima di trovare qualcuno a cui delegare le prime task più importanti dell'azienda o dovrebbe avvenire il contrario? Allora direi che è il contrario e tu hai detto la parola giusta, delegare. Prima di tutto se voglio farlo imprenditore devo capire che la responsabilità imprenditoriale è una responsabilità che si deve condividere con persone che sono sullo stesso carro e remano dalla stessa parte e quindi anche perché non siamo immortali e quindi dobbiamo necessariamente trovare persone che hanno la stessa nostra visione, non che siano magari visionarie come noi ma la stessa visione di medio lungo termine e lo stesso tipo di chiarezza di intenti. Quindi la delega nei confronti di una struttura che sia coerente e estremamente cosciente della responsabilità è fondamentale, è come quando un risparmiatore compra delle azioni sta rischiando tutto suo capitale, si mette di fianco all'imprenditore e con lui fa un cammino con i mercati che decidono se quelle azioni vanno su o vanno giù. L'attività imprenditoriale è esattamente questo, quindi condividere una responsabilità di impresa perché c'è di mezzo il nostro capitale e quindi anche noi stessi e le nostre ore di lavoro. Quindi possiamo dire che all'inizio ci sta perché sai ci sono varie scuole di pensiero soprattutto nel contesto ovviamente americano da cui poi arriva l'eco anche da noi per cui c'è quest'idea del pay yourself first solo dopo no pensa a tutto il resto però in qualità di piccolo imprenditore stiamo parlando magari anche di attività spesso come hai detto tu prima digitalizzate molto digitalizzate perché ormai sono strumenti che si utilizzano molto anche per semiautomatizzare diversi processi e quindi ci sono spesso situazioni dove io piccolo imprenditore ho un'idea, mi arrangio sul web in qualche modo e non prevedo neanche ancora dei finanziatori, vuoi perché ancora non sono abbastanza lungimirante in questo senso, vuoi perché ancora non ho le idee chiare o quello che è, quindi comincio ad utilizzare gli strumenti del web e comincio a chiedermi ok quando è il momento in cui devo cominciare ad assumere qualcuno oppure ad avere magari un tecnico esterno che mi dà una mano qualunque sia il ruolo e la modalità del ruolo ecco questo poi è una specifica che non ci interessa in questo contesto ma quando è il momento in cui dico questo è il momento e dovrei aspettare di avere un'entrata che mi trattengo un pochino anch'io perché in fin dei conti il mio lavoro vale oppure dovrei aspettare? Allora intanto la risposta è sempre il business plan, punto uno. E poi allora è ovvio che non possiamo confrontare la realtà americana con quella italiana perché stiamo parlando di un mondo, noi siamo anche in America dove esiste un ascensore sociale, dove esiste una possibilità di diciamo imprenditoria, imprenditorialità che è molto diversa da quella europea ed anche italiana. Le informazioni finanziarie che sono contenute, che io inserisco in un business plan che come dicevamo perlomeno è triennale o quinquennale, sono quelle che mi guidano su come posso remunerare le persone che lavorano con me o me stesso e quando posso allargare il team. Posso allargare il team nel momento in cui il mio progetto ha raggiunto un'espansione e una risposta tale per cui le persone con le quali sto condividendo questa responsabilità di attività lavorano oltremodo e non riescono più ad assolvere le molte attività che si sono create e quindi l'impresa cresce col crescere dei numeri, col crescere delle attività e quindi anche nell'aspetto finanziario, è tutto assolutamente conseguenziale. Quindi anche se sono da solo seguo lo stesso criterio, quindi se non ho delle persone con cui condivido questa responsabilità di impresa perché decido di fare tutto, di iniziare perlomeno da solo, il criterio è lo stesso, nel momento in cui non ci sto più dentro però un minimo di revenues e di entrate le ho perché altrimenti c'è qualcosa che forse non va, se lavoro di continuo ma non c'è un ritorno, a quel punto posso pensare di delegare alcuni aspetti, giusto? Assolutamente sì, sempre nell'ambito ovviamente dell'attività che ho avviato da solo o con il mio team, sono queste le valutazioni che è necessario fare. A volte prima ancora dei tre anni in cui mi ero prefissato di andare a coprire i costi iniziali, vedo che purtroppo il target che ho individuato non era sufficientemente capiente per portarmi quei numeri e da qui quell'aspetto che dicevo di necessaria continua revisione, almeno semestrale, del business plan per essere sempre in linea con quelli che sono i cambiamenti del mercato, perché arriva un altro concorrente, perché il mercato cambia o perché ragionando su quelle che sono il livello delle vendite attuali, magari ho trovato una miglioria per poter aumentare anche le mie vendite. E questo credo sia importante sottolinearlo, implica flessibilità che a volte noto manca, nel senso che nel momento in cui ci diamo un piano diventa un piano che è scolpito nella pietra e sia mai che qualcuno ci dice che la situazione è cambiata e che le variabili si sono modificate e quindi dobbiamo modificarlo, cioè ci affezioniamo talmente tanto all'idea iniziale del business plan che abbiamo sviluppato che poi diventa magari difficile cambiarlo, quando in realtà l'imprenditoria è anche questo, anzi è soprattutto questo, viaggiare sull'onda del cambiamento. Sì, infatti io faccio l'esempio, ad esempio una donna che dopo i nostri corsi ha iniziato un'attività che si chiama riusa, partiva dal riutilizzo di tessuti e anche di oggetti di casa che ridavano vita secondo una loro nuova funzionalità, a un certo punto girando per i vari mercati ha avuto l'idea di reinventare l'utilizzo della cravatta da un punto di vista sia di oggettistica sia di vederla come un capo di abbigliamento anche per le donne, specialmente sdrammatizzandone l'uso un po' impomatato da colletto bianco. È chiaro che ha dovuto cambiare il suo modo di fare marketing via social, è chiaro che ha dovuto fare su questo filone delle produzioni nello specifico, però ha potuto completare certi dress code alle quali le sue cliente erano affezionate proponendo questa nuova idea, quindi lavorando vengono fuori queste idee, però da un punto di vista sostanziale nel momento in cui lei faceva al giro dei mercatini per fare questo tipo di vendite, purtroppo causa cambiamenti climatici, c'era sempre brutto tempo e non riusciva ad andare ai mercatini a vendere anche questa sua novità, quindi bisogna tenere conto un po' della realtà dei fatti che ci mette di fronte a degli impedimenti che dobbiamo superare, ma noi continuiamo a lavorare perché le nuove idee sono quelle che magari via social e non praticamente riusciamo a portare alla clientela, ma riusciamo ad arrivarci lo stesso comunicando nella maniera giusta anche quegli spunti nuovi che ci possono avvenire, che dobbiamo assolutamente provare a cavalcare. Senti Claudia, quali sono gli errori più comuni che vedi frequenti, che vedi fare nella stesura di un business plan o nel suo aggiornamento poi successivo? Allora, gli errori più comuni sono appunto di creativi che mi dicono io sono un creativo no, i numeri per favore non me ne parlare. Allora, il business plan è una disciplina necessaria, quindi è un po' quando decidiamo che anche se non piace a nessuno fare la dieta, so che se vado avanti negli anni più sono in forma, più sto bene e devo darmi una disciplina. Il business plan è quella disciplina che ci fa star bene, che ci fa dormire tranquilli e che anche se siamo dei super creativi mettere giù quei numeri regolarmente, controllarli sempre, averli sempre ben presente in mente. Faccio un pratico esempio, ad esempio ci sono i pagamenti digitali, no? Io vado a vendere i miei prodotti e utilizzo il POS, se non sono perfettamente cosciente di quanto mi costa ogni operazione di quel POS e che ad esempio a me è capitato di vedere una vendita in uno di questi temporary shop, no? E utilizzavano sum up, bellissimo, ma il costo di sum up è molto più elevato del costo di un POS bancario con dentro la sim che posso portarmi tranquillamente in giro e quindi tra il 2,95%, lo 0,20, 0,50 fa la differenza e se uno mi paga con la carta o mi paga con una carta American Express o una carta Mastercard, anche qui ci sono dei problemi nelle commissioni, quindi a volte nelle piccole cose e nei dettagli c'è un po' il diavoletto di quella economizzazione delle finanze che devo farmi anche quando mi interrogo su un aspetto dei pagamenti digitali. E che poi a questo punto si integra perfettamente con l'aspetto del bilancio, della gestione di un bilancio anche minimo ed essenziale dove io comunque ho sempre una chiarissima idea di quali sono le mie entrate e di quali sono le mie uscite, a prescindere da quello che faccio e da cosa vendo e da chi lo vendo. Senz'altro, questo è un altro degli aspetti, cioè io devo capire come la qualità delle mie entrate, come faccio per contenere i costi di gestione, qual è lo strumento migliore per raccogliere queste entrate e quindi devo anche recordizzarle, quindi tenerne buon conto e regolarmente aggiornarmi su quello che è l'andamento di queste entrate e della copertura dei costi. Se dovessi lanciare un appello alle donne che in questo momento si sentono appunto perché creative o perché negate con i numeri, si sentono comunque bloccate dall'idea di fare questa revisione del proprio business plan, del proprio bilancio periodicamente, perché sai magari uno dice ok mi rimbocco le mani che lo faccio questa volta, poi però non lo revisiono più, non lo aggiorno più o non riesco a starci dietro perché prevale lo scoraggiamento, che cosa diresti? Direi donne fatevi coraggio perché tutta la vita che noi non facciamo altro che organizzare le nostre famiglie, gestire i nostri parenti, gestire figli, nipoti eccetera e utilizziamo una mente, facciamo un business plan di come arrivare a fine mese, di come cavarcela continuamente. Si tratta solo di portare questo esercizio sulla carta, darci una disciplina e farlo come qualsiasi imprenditore dalla notte dei tempi ha portato avanti con successo e quindi non dobbiamo assolutamente scoraggiarsi perché è un qualcosa che è già nel nostro DNA e che siamo capacissime di fare nel migliore dei modi. Grazie mille Claudia per questa chiacchierata, grazie per le tips pratiche, per essere stata con noi per il tempo che ci hai dedicato. Ricordo alle Beats Girls in ascolto che trovate tutti i punti salienti della puntata suddivisi minuto per minuto all'interno della pagina beats-academy.it slash forwardpodcast. Naturalmente potete ascoltare l'episodio, potete guardare l'episodio, sapete che c'è la versione audio e la versione video e poi per le più pigre ci sarà anche un riassunto testuale, però vi consiglio di ascoltare o di guardare l'intera puntata. Grazie ancora Claudia per essere stata con noi. Grazie a voi, a presto. Questo è tutto per la puntata di oggi, spero di averti dato qualche utile spunto che potrai implementare sin da subito. Se crescere un business in cui credi sul web in modo autentico e proficuo è parte dei tuoi piani e non sei ancora entrata a Beats Academy, puoi farlo visitando il sito beats-academy.it. Noi come sempre ci sentiamo o vediamo alla prossima puntata di Impact Girl.